Il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze festeggia un nuovo record positivo. L'istituto, fondato nel 1860, propone oltre 100 corsi accademici, più di 200 eventi l'anno, organizzati insieme alle più importanti istituzioni della città. E conta nuovi iscritti provenienti da 32 paesi nel mondo, tra cui Cina, Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Corea del Sud, Giappone, Messico, Russia e molti altri. Il dato più interessante è l'incremento del 10,6% di iscritti rispetto all'anno accademico 2016-2017, dato in controtendenza con la media nazionale dei conservatori, che segna un meno 2,6%. L'incremento più importante si ha proprio nella fascia degli studenti stranieri, che vede un più 17,4%. Arrivano studenti in Erasmus che stanno qui magari sei mesi e decidono di rimanere a Firenze. Anche questo è una bella soddisfazione, perché vuol dire che si trovano bene. E ci sono i giovani talenti che arrivano qui in età, diciamo, prima dell'adolescenza, e se ne vanno che hanno 22-23 anni, insomma, per cui vivono il conservatorio per anni. La scuola vede anche numerosi scambi di docenze, la partecipazione a conferenze internazionali e ai programmi di formazione del personale con molte città europee. A tutto questo si aggiungono le numerose collaborazioni con le più importanti istituzioni fiorentine e toscane, una presenza capillare sul territorio, dove gli studenti e i docenti del Cherubini sono impegnati con moltissimi concerti durante tutto l'anno. Noi siamo impegnati sul territorio, 365 giorni l'anno, ed è una cosa che ci riempie di soddisfazione, perché il lavoro sul territorio, cioè la famosa terza missione richiesta anche dal Ministero, noi riusciamo veramente a coprirla in pieno. Abbiamo concerti con l'orchestra, abbiamo concerti di musica da camera, concerti nelle scuole, attività collaterali di ogni genere. Abbiamo anche concerti al Teatro dell'Atratellamento, che con orgoglio portiamo avanti da parecchi anni, perché sono spazi che vanno, diciamo, in qualche modo inquadrati in quello che è il recupero culturale degli spazi, appunto, della città. E poi, per esempio, la grande collaborazione per String City. String City è una manifestazione ormai che arriverà al terzo anno consecutivo. L'estate fiorentina, le collaborazioni con tutti gli enti formativi, Cito, Fiesole, Maggio, Maggio Fiorentino, e poi naturalmente l'orchestra della Toscana, per cui veramente siamo a grandi libelli, direi. La stagione prenderà il via venerdì 2 febbraio, con una festa dedicata al compositore istriano fiorentino Luigi Dallapiccola, in occasione dell'anniversario della sua nascita. Il concerto, che si terrà presso l'Aulamagna dell'Università degli Studi di Firenze, prevede una maratona musicale con tantissimi musicisti provenienti da tutta Italia. Il concerto, che si terrà presso l'Aulamagna dell'Università degli Studi di Firenze,